ragazzi oh my god ho riscoperto un agigio infernale rieccomi dopo cinque giorni di pausa per sto torcicollo di merda ci sono ritornato dopo cinque giorni di pausa e un twerk vi faccio io mi dissocio allora più tardi caricherò tantissimi video comunque come mi sono vestito a perché ora le sei mia madre deve andarsi a fare il bacino io devo aspettare e poi andiamo a casa di un'amica di mia madre perché dobbiamo prenotare un viaggio in sardegna ho fatto lo spoiler quindi tenetevi per punti anche l'estate arriveranno tantissimi tantissimi video blog ma proprio tanti non ve li immaginate manco comunque molto felice che mi è passato quindi ritornerò a fare video tranquilli che gioco in programma oltre a questo video in cui vi spiego un po il tutto altri due sempre se ci riesco a farli quindi vi ringrazio ancora per non esservi disiscritti avermi aspettato eccetera grazie veramente grazie grazie di cuore per avermi aspettato dopo questi cinque giorni normalmente sono potuto ritornare guardate ora vi spiego qua questi due scalini ho fatto così boom caduto per terra mi sono fatto male cioè non mi sono fatto male però c'ho qua sotto fatto male ancora il dito della mano che come potete vedere ancora gonfio e per il contraccolpo dietro quel collo che c'è una sorta ancora un po duri muscoli però vabbè fa niente comunque raga vi sto rubando già troppo tempo vi ho spiegato un po tutto quello che mi era successo state tranquillissimi ovviamente lasciate like attivate la campanellina iscrivetevi visualizzate tantissimo questo video condividetelo con tutti i possibili immaginari familiari che avete in tutto il mondo anche quelli delle bahamas e del messico e se li avete ditemi di portare la detto questo ciao ci vediamo al prossimo video